Beh, paghiamo con i 5, quelli nuovi, perché così abbiamo i 5 per fare benzina, ma noi non dobbiamo mai mettere i 5 euro qua a pagare a pagare la mano. Beh, se c'è chiuso. Non c'è mai chiuso. Non c'è mai chiuso qui. Sono le 12. Eh no, è già passata l'una, eh. Eh, sono le 2, anche da noi gli strutture le 1.5 sono aperti. Ma non penso proprio. Stop. Come non penso proprio? Vi abbiamo trasmesso discussioni di Casalana.